Il nuovo ospedale San Catardo a Taranto non verrà inaugurato e aperto prima di maggio 2026 e quanto emerso durante le edizioni in commissione bilancio del Consiglio regionale pugliese. I lavori strutturali dovrebbero concludersi entro il 31 marzo 2025, ma avviare l'assistenza dei pazienti occorrerà attendere oltre un altro anno. Al momento è stato completato circa il 96% di tutta l'opera e nel frattempo sono state espletate le gare per gli arredamenti degli spazi comuni e quella sulla segnaletica. L'ospedale si snoderà su una superficie di 260.000 m2 con una struttura posta su quattro livelli. Il San Catardo disporrà di 715 posti letto, 70 ambulatori, 28 sale diagnostica, 19 sale operatorie, 2300 posti auto ed un eliporto. Si è insomma, almeno così sembra, alle battute finali.